Ti saluto con la pace di Cristo, Dio ti benedica. Questa mattina, siamo il primo febbraio 2022, prima di iniziare a leggere la parola del Signore ho da farti una richiesta, una richiesta di preghiera. Io per ora vivo a Mussumeli, lavoro a Mussumeli, in provincia di Caltanissetta, ma da oggi sono aperte le domande per il trasferimento, quindi io da oggi potrò fare la domanda di trasferimento per avvicinarmi a Caltagirone, nel mio paese, solo che nello stesso momento si è presentata anche la possibilità di poter essere distaccato, quindi è diverso, è una cosa differente, il distacco è un qualcosa di temporaneo, il trasferimento poi è definitivo, quindi c'è anche la possibilità di poter essere distaccato a Mazzarino. Io ti chiedo di pregare per me, perché io desidero non che vada dove io voglio andare, ma desidero che sia il Signore a mandarmi dove lui vuole. Quindi ti chiedo per favore di unirti a me in preghiera e di chiedere a Dio che sia fatta la sua volontà nella mia vita e se ci fosse la possibilità che delle porte debbano essere chiuse, chiedi al Signore che siano chiuse. Io confido nelle tue preghiere, mi affido al Signore, ma confido anche nelle preghiere del suo popolo, quindi prega per me, prega anche che Dio mi continua a dare forza, ho bisogno ovviamente giornalmente del Signore per predicare la sua parola, per evangelizzare, per testimoniare, ti chiedo di sostenermi in preghiera, io ne ho bisogno, quindi te lo dico apertamente. Detto ciò, scusami per questa breve parentesi, voglio passare subito al versetto di oggi che ci dice proprio così. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Prima lettera di Giovanni capitolo 5 versetto 11 ed ancora, le mie pecore ascoltano la mia voce, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Vangelo di Giovanni capitolo 10 versetti 27 e 28. Il titolo di questa meditazione biblica è una domanda, il fine della morte. I progressi della medicina e le tecnologie più avanzate che accrescono le potenzialità umane, si parla infatti di uomo aumentato, inducono alcuni scienziati a domandarsi se oggi la morte, quella del corpo si intende, sia davvero inevitabile. Fin dalle prime pagine la Bibbia spiega perché la morte ha colpito il primo uomo e tutta la sua discendenza e per la trasgressione, per la disubbidienza all'ordine di Dio e la fiducia riposta in Satana, il padre della menzogna, proprio come è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 8 verso 44. Ma se la scienza non ha alcun potere contro la morte del corpo, tantomeno ne ha contro l'altra morte, quella dell'anima, cioè la perdizione eterna, conseguenza di quel male profondo che ha corrotto la nostra anima, la parte immateriale del nostro essere che non può essere distrutta. Si tratta del peccato, un male morale che ha compromesso il nostro rapporto con Dio, il Creatore. Le tecnologie in campo medico ovviamente, ma anche in campo informatico, elettronico e anche in altri campi, non potranno mai annullare la morte del corpo e tantomeno quella dell'anima. Soltanto Dio, e lo sottolineo, soltanto Dio può salvare le sue creature dalla morte eterna e lo fa per mezzo di Gesù Cristo che egli ha mandato fra noi e che si è fatto carico delle nostre colpe, dei nostri peccati. Dio ha tanto amato il mondo, tutta l'umanità che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. Vangelo di Giovanni capitolo 3 verso 16. Per ricevere gratuitamente questo dono della vera vita dobbiamo pentirci di esserci allontanati da Dio e di averlo offeso e credere al valore eterno del sacrificio che Cristo ha compiuto sulla croce. Chi crede in me, ha detto Gesù, anche se muore vivrà, proprio come è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 11 verso 25. Nessuno può privarci del dono divino della vita eterna. Anzi, solo uno può privarci, noi stessi. Con il nostro egoismo, con il nostro orgoglio, con la nostra superbia, noi possiamo evitare, rifiutare, allontanare il dono che Dio vuole darci. Quindi questa mattina l'invito è chiaro. Apri il cuore a Gesù perché in Lui avrai tutto e pienamente. L'ho detto, lo ridico e lo ripeterò fino a che muoio. In Cristo siamo più che vincitore, siamo più che soddisfatte. La nostra anima, il nostro corpo, la nostra mente, tutto il nostro essere verrà benedetto dal Signore. Quindi perché perdessi questa opportunità meravigliosa di vivere l'eternità con Lui? A te la scelta. Dio ti benedica e buona giornata in Cristo Gesù. A te la scelta.